vincenza capuano armonia dell'amore introduzione in un'epoca come la nostra dove ognuno per ragioni varie è impegnato nel quotidiano a portare sempre a termine con la massima efficienza i doveri a cui si è chiamati per esplettare bisogni primari e secondari non c'è più tempo per fermarsi e riflettere su dove ci sta portando questa folle corsa è una sfida continua quella dell'uomo moderno che cercando delle risposte al senso della vita preferisce stordirsi con tanti rumori che alla fine mettono a tacere l'unica voce autentica del cuore l'amore attraverso l'amore per l'altro è possibile arrivare all'amore per se stessi e poi all'amore cosmico gli esempi di vita di persone che hanno fatto dell'amore una loro ragione di vita ci inducono a varcare i confini del cuore che a torto vuole rinchiudere l'amore in un recinto ma che con il tempo può diventare una gabbia dorata costruita dalle nostre mani il percorso del vero amore benché insidioso e poco lineare è l'unica strada che ci porta per mano ad una verità assoluta non esiste felicità senza amore una volta intrapresa questa strada è difficile tornare indietro e regredire se non nel senso metaforico della parola che vuol dire ricordare un nuovo modo di amare che subito impariamo al momento della nascita e che poi facilmente mettiamo in pratica nel periodo della fanciullezza ognuno può dare un significato all'amore in base al suo vissuto personale e decidere di accontentarsi o provare a varcare i confini del cuore ben sapendo che per essere felici bisogna saper osare perché il rischio fa parte del gioco con l'incredibile potere delle emozioni e l'entusiasmo verso uno scopo l'avventuriero viaggiatore spinto dalla forza dell'amore potrà sperimentare che esiste una potente legge universale la legge dell'attrazione allargando il proprio cuore verso se stesso e gli altri potrà riuscire a generare un'energia positiva che lo aiuterà a sintonizzarsi sulla frequenza di ciò che desidera e ottenere quello che vuole la strada lo condurrà al bene supremo capitolo 1 l'amore è un sentimento universale che accompagna la vita di ogni persona dalla nascita fino alla morte l'amore è felicità anche quando questa è compromessa dai venti avversi che soffiano contro la nave a cui timone ci sei tu sì proprio tu perché il protagonista della vita sei tu quando ami e vuoi dare con tutta la forza del tuo essere un senso e una direzione al viaggio della tua vita l'amore è un miracolo uno stato di grazia diceva sant'agostino l'amore ci infiamma ma ci fa anche ammalare è una fiamma che si accende quando nell'aria respiri la felicità ma si si spegne allora la felicità diventa una nostalgia un ricordo lontano che non è più nei pensieri dell'oggi chi cerca e rincorre la felicità sta cercando l'amore e non sa che è lì accanto a sé l'amore è nello sguardo di un bambino che per la prima volta volge il suo sguardo al mondo che fino ad allora portava dentro di sé e quando con stupore scopre che il mondo interiore corrisponde a ciò che lo circonda si infiamma di amore per la vita l'amore è nello sguardo di un animale domestico che vuole trasmettere tutta la sua gratitudine al suo padrone che lo ha scelto per amore e prendendosi cura di lui gli dà una vita nuova in cui non si sente più abbandonato l'amore è in colui o colei che dimentica il torto di ieri per non perdersi l'occasione di uno sprazzo un raggio improvviso di luce che oggi c'è e fra un po' non ci sarà più ma l'amore lo puoi cercare anche per colmare un vuoto curare una ferita antica in tal caso il corpo parla chiede cura, attenzioni e non ricevendole più si ammala d'amore un amore malato spinge a compiere azioni ed assumere comportamenti ed atteggiamenti disfunzionali l'amore allora diventa sofferenza, attesa, sconfitta, ansia, angoscia il cuore così tradisce, offusca l'anima e la mente il corpo diviene rigido, sordo, incapace di reagire il cuore ci tradisce quando ci convince e ci illude che un'unione sia perfetta è il peggio che ti può capitare quando ti abitui a vivere in un mondo ridotto a una persona soltanto il cuore tradisce quando ci convince e ci illude che una persona a cui siamo affezionati per un legame di amicizia parentela, genitoriale possa sempre condividere con te una gioia un dolore fin dalla nostra infanzia apprendiamo tanti modi di amare e impariamo a sanare ferite antiche a rimediare ad antichi dolori, sconfitte, delusioni, separazioni, perdite ognuno di noi può riscrivere la propria storia facendo memoria di amori passeggeri ma che lasciano una scia sul cuore con il tempo diventa un solco proprio come una ruga e con il passare degli anni segna sul volto il naturale trascorrere del tempo perché le delusioni affettive non finiranno mai e allora se mettiamo sulla bilancia quello che l'amore dà e quello che l'amore toglie e in cosa consiste la convenienza l'amore è un mistero non esistono teorie che spiegano i meccanismi e le dinamiche per cui si possa calcolarne la convenienza non è un oggetto di studi di psicologi o studiosi esperti in materia né tantomeno paragonabili ad un bene strumentale per cui si possa quantificarne il valore bisogna lasciarsi andare e farsi guidare dal cuore che ha il potere di condurci sulidi e spiagge inesplorate con alberi ricchi di frutti gustosi i cui semi sono stati piantati da altri che sono passati di lì prima di noi ci vuole un cuore grande per riuscire ad approdare su quelle spiagge incontaminate e calpestate da coloro che dell'amore hanno fatto una loro ragione di vita l'amore all'improvviso può trasformarsi cambiare faccia e manifestare tutta la sua forza devastante nell'odio nella gelosia ossessiva nella dipendenza affettiva un gioco perverso quello dell'amore in cui quest'ultimo con la stessa facilità con la quale ti rapisce e ti avvolge arriva ad annullarti non c'è da meravigliarsi se un amore passionale tra due persone possa trasformarsi in odio o se un amore malato si trasformi in gelosia ossessiva e ancora un amore immaturo diventi dipendenza affettiva non si tratta di teorie ma di esperienze che i protagonisti di una storia d'amore continuamente fanno le trasformazioni naturali dell'amore devono fare i conti con le trasformazioni dell'epoca storica che stiamo vivendo e che vorrebbe cancellare tutta la magia e la poesia dell'amore purtroppo oggi l'eccessiva libertà sessuale e sentimentale ha finito per spegnere un sano desiderio con cui nasciamo quello di amare l'altro tale libertà è una delle illusioni alla quale molti uomini e donne del mondo occidentale credono fermamente tanto da considerarla un valore del quale andare fieri e orgogliosi e pertanto da difenderla a qualunque costo contro quelli di altre etnie e religioni giudicati barbari poiché non la pensano allo stesso modo anche tra chi assiduamente e scrupolosamente osserva le pratiche del culto senza afferrarne l'intima essenza religiosa c'è una mentalità distorta nel dare una reale spiegazione dei fatti i desideri proibiti sono più frequenti tra le persone bigotte libertà offerta e concessa oggi a tutti adolescenti e giovani adulti e anziani celibili e sposati conviventi o separati tale libertà ha incontrato il favore di buona parte della popolazione creando una grande confusione sul concetto originale dell'amore a cui si contrappone un'unica certezza la netta prevalenza del primato dell'individuo nell'ambito sociale l'egoismo conclamato dell'uomo contrapposto al nobilissimo desiderio della donna di sentirsi libera di usare il suo linguaggio caratterizzato da gentilezza atteggiamento mirato alla cura e all'assistenza sensibilità interesse relazionale ed espressività il femminicidio è una degenerazione di una mentalità che rispecchia il cattivo uso del linguaggio dell'amore sono le parole che volendo spiegare con la ragione un sentimento misterioso qual è l'amore degenerano fino a giustificare l'abuso la prepotenza e l'egoismo così diventa facile uccidere in nome dell'amore troppe parole non misurate possono pesare come macigni sulle persone che le subiscono e che credono ancora nell'amore puro nonostante tutto l'amore per essere vissuto nella sua pienezza deve varcare i confini deve spingersi verso il largo da dove si contempla l'infinito l'amore puro e incondizionato verso il partner o un figlio di cui fanno esperienza alcune persone è solo un piccolo esempio del vero amore perché rimane relegato in una parte del cuore delimitata da un confine quando invece l'anima ci spinge ad andare oltre quei confini bisogna che la secondiamo se vogliamo essere davvero felici bisogna che diamo ascolto al suo gemito altrimenti rischiamo di lasciarla indietro a smarrirsi mentre corriamo dietro le nostre illusioni che non essendo basate sulla realtà dei fatti non ci fanno fare esperienza di vita vera reale autentica smarriamo la nostra anima quando di fronte alle prove della vita vogliamo trovare un colpevole il primo ad essere messo all'agonia è il nostro io che deve dare una spiegazione al perché degli eventi a noi avversi di seguito la colpa sarà spostata su altri ma andremo incontro ad una serie di fallimenti perché il campo su cui investigheremo è limitato da quei confini con cui abbiamo delimitato il nostro cuore dal cuore nascono i buoni e i cattivi propositi è da lì che partono le azioni più meschine di cui è capace l'uomo da lì nascono le opere grandiose realizzate dai santi nel corso dei secoli e che continuano ad essere realizzate dobbiamo varcare i confini del cuore e camminare a fianco alla nostra anima perché quando la coscienza spirituale conosce si sveglia il nostro sguardo allora cambia la vitalità aumenta le energie si creano e si muovono e nulla più è stagnante capitolo 2 ogni individuo porta dentro di sé un bagaglio di emozioni sentimenti sensazioni è il bagaglio più leggero che esista ma può anche diventare pesante quando la nostra vita si incrocia con quella di un'altra persona con cui non riusciamo a connetterci sulla stessa frequenza tutte le persone che hanno un significato importante per noi e che entrano a far parte della nostra vita aggiungono qualcosa al bagaglio che un allegro avventuriero viaggiatore porterebbe sulle spalle con disinvoltura attento a non caricarlo di oggetti inutili quando il desiderio che muove verso l'altro ci guida verso la ricerca del piacere dell'unione con l'altro del legame d'amore vuol dire che stiamo cercando un partner secondo Freud un eccessivo affetto dei genitori verso il bambino sarebbe nocivo perché causerebbe una precoce maturità sessuale e anche perché viziandolo si renderebbe il bambino incapace in futuro di fare temporaneamente a meno dell'amore o di accontentarsi di averne in misura minore tutte le teorie sono utili fin quando si voglia dare una spiegazione a dei comportamenti ma quando l'oggetto di studio è l'amore si fa poco perché il sentimento dell'amore è un mistero senz'altro alcune conoscenze riguardo possono servire per capire i comportamenti di un adolescente che comincia a vivere le prime esperienze d'amore o di persone adulte che amano alla maniera di un adolescente ma per il resto è un argomento su cui si può ragionare ben poco molti filosofi hanno riflettuto su questo tema Socrate Platone Aristotele Plutarco e vi hanno riscontrato sentimenti tra i più alti e delicati Platone diceva che l'amore è l'attrazione esercitata dalla bellezza è l'aspirazione a superare la realtà sensibile per risolversi in contemplazione del mondo ideale è un desiderio di qualcosa che non si ha quando la persona si lascia guidare oltre che dalla ricerca del piacere anche dal cuore sicuramente comincerà a fare esperienza dell'amore che all'inizio sarà immatura poi con il tempo e la perseveranza si trasformerà in amore maturo quando si parla di amore maturo si riferisce ad una relazione volta alla crescita dei due partner alla reciprocità alla capacità di arricchirsi senza privarsi di niente all'innamoramento alle relazioni basate su puri sentimenti l'amore maturo è unione a condizione di perseverare la propria integrità la propria individualità l'amore è un potere attivo dell'uomo che annulla le pareti che lo separano dai suoi simili che gli fa superare il senso di isolamento e gli permette tuttavia di essere se stesso e di conservare la propria integrità all'amore maturo si contrappone l'amore immaturo che è caratterizzato da una totale dipendenza reciproca dai membri della coppia il cui rapporto è paragonabile a quello iniziale di madre figlio l'amore immaturo piuttosto che permettere la crescita reciproca all'interno della relazione o a contribuire a una maggiore autostima e benessere in entrambi i partner è caratterizzato da giochi di potere possessione preoccupazione ossessiva mancanza di fiducia incertezza ed ansia l'amore ideale non esiste ma certamente un ideale di amore c'è ed è l'amore maturo nella relazione con il partner ognuno di noi porta una propria precisa modalità una schema un modello di come la relazione sarà e di cosa ci aspettiamo da essa questo schema lo abbiamo imparato nel corso della nostra storia personale e lo riproponiamo in maniera abbastanza sistematica nelle nostre relazioni intime è uno schema che ricalca in linea generale quello che abbiamo sperimentato nel corso delle nostre primissime relazioni significative ovvero quelle con i nostri genitori è l'esperienza del nostro primo amore quello con la madre per i maschietti o con il padre per le femminucce che ci imprime nella mente un'idea di cosa dovremmo aspettarci dalle relazioni importanti con quell'idea in testa noi ci muoviamo nel mondo e cerchiamo storie e relazioni che possono consentirci di ritrovare quel modello l'arte di amare non è così semplice come sembra il percorso è sempre insidioso e può portarsi anche a sperimentare la delusione di un grande amore la persona amata ci delude perché all'improvviso non corrisponde alle nostre aspettative l'amore allora diventa un grido che la persona amata non riesce più a placare appagandolo con l'amplesso in cui sessualità spirito e anima sono talmente fusi da generare effetti profondi di realizzazione ed elevazione l'amore quindi si trasforma in odio perché la persona amata non capisce più i tuoi reali bisogni un amore che si spegne è più doloroso di un amore che non c'è diventa così un ricordo lontano una nostalgia confermata dalla tristezza di camminare insieme senza percepire l'altro come la persona più speciale del mondo di chi è la colpa ma come spiegato nel capitolo precedente non serve a nulla cercare un colpevole se non ad un inutile spreco di energia bisognerebbe immergersi nei meandri dell'anima per capire cosa ci impedisce di amare perché continuiamo a considerarsi delle persone non degne di essere amate forse perché quando eravamo bambini non abbiamo avuto le cure e le attenzioni da uno dei nostri genitori oppure perché il genitore che tanto amavamo non ha saputo scrutare in noi un disagio una difficoltà l'amica o amico cui tanto volevamo bene non ha corrisposto al nostro affetto eppure nel periodo dell'adolescenza girava tutto intorno a lei la maestra la tata o qualunque altra persona che rappresentava un cardine importante della nostra infanzia non ha capito quanto incideva sul livello di autostima la sua considerazione questi sono solo alcuni esempi ma potrebbero continuare alla fine il bagaglio della nostra vita è diventato troppo pesante anche perché durante il viaggio lo abbiamo appesantito di tante cose inutili che mentre credevamo fossero necessarie hanno appesantito il carico inoltre le cose vecchie che andavano rinnovate sono rimaste lì condizionando la nostra mente con scelte subite e facendoci vivere un presente faticoso e difficile ci hanno proiettato verso un futuro incerto è così che si ammala il nostro corpo ma se l'amore può farci ammalare ha anche il potere di farci guarire perché l'amore non solo aiuta l'uomo nei momenti difficili della vita ma è anche armonia che aspira ad un bene supremo l'amore districa tutti i nodi e fa pulizia sul cammino del viaggiatore che considera la sua vita un'avventura e sa che il suo viaggio non deve appesantire di cose inutili che gli farebbero perdere di vista il bene supremo verso cui è proiettato il suo futuro capitolo 3 l'amore quindi all'improvviso può trasformarsi e manifestare tutta la sua forza devastante nella dipendenza affettiva la dipendenza affettiva è non necessariamente riferita al partner si può dipendere dall'affetto di un figlio di un genitore di un amico poiché l'amore è un sentimento universale nel momento in cui la persona che per noi è stata fonte di benessere si allontana sentiamo dentro di noi uno stato di malessere come una nostalgia una tristezza del cuore che ci fa fare esperienza di solitudine vuol dire che abbiamo sviluppato una dipendenza affettiva anche inconsapevolmente fare esperienza d'amore vuol dire fare esperienza di qualcosa di soprannaturale il nostro spirito oltre che il nostro corpo ne ha bisogno come il pane quotidiano non è concepibile una vita senza amore l'amore è una forza che pervade l'essere fin nel profondo è una forza che più ce n'è meglio è l'amore ti aiuta a combattere la malattia tanti anni fa erano in commercio dei fazzoletti utilizzati per confezionare le bomboniere di matrimonio con sopra la scritta l'amore è puntini ognuno può scrivere la sua storia d'amore ed ognuno mettendo a tacere i rumori esterni nel silenzio del proprio cuore può scrivere una storia infinita che comincia nel momento in cui veniamo al mondo dalla storia ne uscirà una raccolta di episodi conditi da varie sensazioni e caratterizzati da alcune azioni che risultano più significative rispetto ad altre per l'intensità con cui abbiamo vissuto il nostro sentimento d'amore ridurre l'amore a una dipendenza affettiva vuol dire chiedere molto poco alla vita che altresì generosamente elargirebbe molti altri doni se noi lo volessimo ci sono persone che hanno fatto della loro vita un inno di lode e di grazia pur avendo sperimentato il dolore più grande che si possa provare la perdita di un figlio per riuscire ad amare gli altri e l'universo nella maniera più pura e incontaminata bisogna cominciare dall'amore per se stessi spesso ci lamentiamo di non essere amati o di non sentirci amati e lo continueremo a fare finché non comprenderemo che gli altri sono lo specchio di noi stessi gli altri non ci amano o per meglio dire noi non ci sentiamo amati abbastanza perché non ci sappiamo amare e non abbiamo abbastanza amore dentro di noi per sentirci amati dobbiamo avere e provare amore dentro di noi altrimenti cercheremo sempre negli altri ciò che ci manca dentro ma come possiamo trovare all'esterno qualcosa che dentro non abbiamo l'esterno è la conseguenza dell'interno ciò che proviamo interiormente si manifesta nella realtà tramite le persone e le situazioni che viviamo di conseguenza per vedere manifestato l'amore all'esterno è necessario averlo e sperimentarlo prima dentro di noi tuttavia amare se stessi e sviluppare amore interiormente è facile a dirsi ma non altrettanto a farsi innanzitutto non bisogna fraintendere l'amore per se stessi con l'egoismo l'amor proprio è la base per poter amare anche gli altri altrimenti nei rapporti interpersonali svilupperemo solamente dei meccanismi di desiderio e attaccamento che poco hanno a che fare con l'amore come prima cosa dobbiamo osservarci e comprendere come siamo e ciò che accade dentro di noi possiamo partire con il porci alcune domande sulla coscienza e consapevolezza sugli stati d'animo sui pensieri sugli atteggiamenti chi sono o chi penso di essere quali sono i miei bisogni reali qual è il mio scopo cosa sto provando ora quali sono le mie emozioni cerco di nasconderle o di non provarle mettendoli a tacere come penso quali sono i miei pensieri più frequenti ho delle convinzioni o schemi sabotanti che opinione ho di me come mi comporto ho delle abitudini distruttive mi prendo cura di me stesso ho rispetto e stima di me iniziando a meditare su queste domande interiori permettiamo di portare alla luce ciò che abbiamo dentro e iniziamo a vedere meglio a questo punto dobbiamo sviluppare alcune qualità e attitudini che ci permettono di migliorare il rapporto con noi stessi e di iniziare ad amarci un po' di più cominciando dall'accettazione accettare vuol dire avere compassione e accogliere ciò che è quello che siamo senza giudizio iniziando così a fare il primo passo per amarsi incondizionatamente questo non significa che dobbiamo rassegnarci ad essere così come siamo se ci sono dei lati di noi che vogliamo trasformare ma vuol dire smettere di criticarci e permetterci di attuare cambiamenti in modo consapevole lasciamo andare il giudizio fine a se stesso e impariamo a vedere i nostri lati positivi un altro passo importante per amarsi è sviluppare l'autostima spesso siamo i primi ad autosabotarci giudicandoci negativamente senza avere stima di noi stessi credere in se stessi è fondamentale per sviluppare un atteggiamento positivo e amorevole nei propri confronti avere stima di sé non significa però sentirsi perfetti ma apprezzarsi e avere fiducia nelle proprie capacità il nostro percorso di ricerca interiore deve favorire un ritorno a contatto con la nostra anima allora l'immagine illusoria di noi stessi di non essere capaci crollerà e ci apriremo a qualcosa di più grande riconoscendo la nostra vera natura divina non solo aumenta l'autostima in modo naturale ma cambia completamente il paradigma quando riconosciamo che non c'è più separazione tra noi e Dio allora iniziamo a vedere il nostro valore un altro passo è liberarsi dal giudizio degli altri non dobbiamo avere bisogno dell'approvazione altrui parliamoci chiaro il vero problema è che siamo condizionati dal giudizio altrui tuttavia ciò che gli altri pensano di noi riguarda loro non noi se continuiamo a cercare l'approvazione e il plauso degli altri mettiamo la nostra autostima sempre nelle loro mani e rimarremo condizionati da questo meccanismo ciò che invece è davvero importante è quello che pensiamo di noi stessi il lavoro su noi stessi inoltre può aiutarci a curare le nostre ferite interiori è un nostro preciso dovere trasformare i pensieri e i comportamenti negativi portando alla luce l'inconscio fa parte della missione della nostra anima riconoscere l'ego e smettere di identificarsi con esso è fondamentale è un percorso di ricongiungimento con noi stessi il lavoro su di noi ci permetterà di liberarci dalle zavorre che fino ad ora ci siamo portati dietro che ci hanno impedito di essere veramente presenti e di amare incondizionatamente senza egoismo conoscere profondamente noi stessi ci aiuterà a sviluppare una presenza nel qui ed ora priva di condizionamenti e non essere più preda degli eventi sfavorevoli impareremo a scoprire la bellezza dentro di noi che è fatta di ombre oscure ma anche di una meravigliosa luce capitolo 4 chi cerca la felicità cerca l'amore e la felicità è un percorso non una meta a volte ci aspettiamo dagli altri l'amore che dovremmo dare a noi stessi e indirettamente anche alle persone a noi più care l'amore è un dare e un ricevere ma l'amore puro è un dare incondizionatamente e non per questo vuol dire annullarsi perché significherebbe privarsi di energia di benessere di luce chi è fedele al principio dell'amore non può essere una persona stanca priva di energia scontenta delusa fiacca depressa durante il periodo dell'adolescenza e della giovinezza ho provato in diversi momenti questi sentimenti perché ero affamata di un amore che volevo a tutti i costi ricevere dagli altri e mi ostinavo a pretenderlo solo quando ho capito che l'amore donato incondizionatamente aveva più valore di quello ricevuto ho cominciato a mettermi in contatto con la mia anima e a credere alle mie capacità innanzitutto ho iniziato a ricordare tutto l'amore ricevuto che mi ha portato ad essere quella che sono un'instancabile sognatrice successivamente ho acquisito la consapevolezza di essere stata una bambina fortunata perché ho avuto il coraggio di avere un sogno che ho trasformato in realtà dopo 30 anni e quando da grande ho scoperto che la realtà era più bella del sogno allora ho raggiunto la felicità attraverso un percorso faticoso e in alcuni momenti doloroso ma che ha prodotto i suoi frutti da bambina sognavo di diventare mamma quando felicemente portavo a passeggio in carrozzina nel giardino di casa il mio giocattolo preferito il famoso ciccio bello così è nata la mia favola quando sono diventata mamma per la prima volta e poi una seconda volta mi sono sentita una vera principessa perché ho donato l'amore avrei voluto farne altri 10 per continuare a provare quella sensazione non l'ho potuto fare ma l'instancabile sognatrice non si è fermata perché continua a sognare e ad impegnarsi per realizzare i suoi sogni la sensazione di gioia che ho provato nel dare più che nel ricevere mi ha messo in contatto con la mia anima avvicinandomi al bene supremo camminando verso la luce ho capito di avere una capacità di cui ho avuto subito piena consapevolezza nel momento in cui l'ho realizzata io ero capace di sognare e ho continuato a sognare anche da grande dopo essere diventata moglie e mamma sia ad occhi aperti che chiusi desiderando fortemente quello che sognavo fino a realizzare il mio sogno ho sperimentato ancora una volta che la realtà era più bella del sogno proprio come quando diventando moglie e poi mamma mi sono sentita la principessa nel suo castello con il principe dei sogni e i suoi bambini il potere dell'amore ci avvicina anche alle persone che non vivono più in questo mondo perché l'amore incondizionato non si arrende mai proprio come può essere l'amore di un padre per un figlio quante volte ho sognato mio padre che mi ha rassicurato con il suo sorriso e le parole profetiche nei momenti difficili della mia vita si realizza così ancora una volta attraverso il sogno un incontro di anime che si vogliono bene ognuno in qualsiasi momento della vita può scoprire di avere delle capacità e quando l'avventura comincia ci prendi gusto e non la smetti più perché la curiosità ci spinge ad andare sempre oltre la bussola però deve essere sempre in direzione dell'amore altrimenti il viaggio comincia a stancare e a farci perdere energia il viaggio deve essere una ricerca continua dell'essenza più autentica di noi stessi e della vita un viaggio alla scoperta di bellezza bontà e verità questo va compreso se vogliamo davvero realizzarsi in ogni tipo di relazione il rapporto di coppia e tutte le relazioni affettive sono solo un riflesso di un percorso che conduce alla scoperta di uno stato di unità più elevato quando l'amore umano viene vissuto solo in modo materiale grossolano più che elevare trascina verso il basso più che unire divide portando all'autodistruzione e noi ci illudiamo che questa autodistruzione sia amore dietro le dinamiche biologiche psicologiche e sociali di tutte le relazioni esistono delle leggi spirituali precise con le quali dobbiamo porci in armonia nessuna può completarci dobbiamo essere noi a completare noi stessi l'unicità e l'irripetibilità della nostra individualità ci consente di disegnare con le nostre mani il capolavoro della vita che non è concepibile in bianco e nero come la televisione di un tempo che poi è diventata a colori deve a tutti i costi essere colorata perché è l'unica vita che ci viene donata non ce ne sono altre se non quella eterna se da bambina sognavo di essere mamma ed ero felice perché è sicura che avrei in futuro realizzato il mio sogno da adulta ho dovuto soltanto ricordare una felicità già vissuta e poi confermata dalla realizzazione del sogno in realtà non è stato difficile per me di continuare a sognare perché quando riesci a realizzare qualcosa una volta vuol dire che la puoi fare almeno cento volte eppure ci insegnano che i sogni appartengono solo ai bambini il segreto per vivere con pienezza e passione la vita è credere fortemente in ciò che rende felice il nostro cuore più avremo modo di emozionarci più affronteremo con forza e coraggio anche le difficili prove della vita così da adulta ho semplicemente realizzato in grande ciò che nell'immaginazione di una bambina è stato concepito così sarà la vita eterna la realizzazione di una felicità concepita in piccola parte nella vita terrena i bambini si insegnano tante cose la bambina che ero e che non smette di vivere dentro di me come il fanciullino di cui parlava il Pascoli mi ha insegnato che è possibile realizzare i sogni ma anche i miei figli quando erano bambini mi hanno trasmesso esempi di vita vera vissuta quanta felicità mi ha trasmesso il loro sguardo appagato e pieno di stupore quando sono venuti alla luce del mondo la forza e il coraggio che hanno dimostrato da bambini nell'allontanamento dalla protezione dei genitori con l'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi anche nel periodo adolescenziale sono stati per me un eclatante esempio di vita autentica i loro atteggiamenti positivi e le loro poche ma significative parole sagge continuano tutt'oggi a darmi tanta grinta e voglia di andare avanti senza mai mollare il potere dell'amore si esplica nella capacità di donare con gioia e libertà più che di prendere e aggrapparsi disperatamente a qualcuno perché origina dal sapere amare se stessi e automaticamente diventa la capacità di amare l'altro nella sua interezza l'amore incondizionato ci mette sulla strada per arrivare a provare compassione per ogni essere vivente in questa accezione dell'amore non ci si considera incompleti ed in cerca di affetti che creino dipendenza e possessività l'amore è libertà non può essere una pretesa quale può essere quello adolescenziale più romanticheggiante come l'amore delle telenovelas della sopopera o della collana harmony per intenderci tale amore si basa sull'incompletezza e sull'appoggio sull'altro per colmare il proprio deficit dobbiamo partire dall'idea che non siamo deficitari di niente perché siamo perfetti così come siamo con le nostre fragilità miserie e debolezze che trovano solo nell'amore la loro ragione di essere se fossimo perfetti non avremmo bisogno di nessuno perché basteremmo a noi stessi e sappiamo bene che non è così perché abbiamo bisogno gli uni degli altri è una verità a cui non ci si può sottrarre l'amore non è una prerogativa dei deboli bensì delle persone forti capitolo 5 chi non ha vissuto almeno una volta nella vita l'innamoramento quando una persona dice di essere sfortunata in amore dovrebbe interrogarsi sulla propria mancanza di autostima in amore cominciando a domandarsi se tutta quella sfortuna nelle relazioni dipenda da qualcosa che ha dentro di sé non sono negli altri a non essere disponibili né l'individuo in cerca d'amore ad essere inadeguato ma c'è un problema da risolvere da qualche parte impariamo l'arte di amare fin da quando veniamo al mondo strappati dal grembo materno con un atto che si completa attraverso la recisione del cordone umbilicale allora cominciamo ad apprendere che se vogliamo sopravvivere dobbiamo imparare un modo nuovo di amare non abbiamo altra scelta così facciamo tesoro nel tempo di tutta una serie di esperienze che ci porteranno poi alla scelta del partner un percorso non è lineare per nessuno l'amore non è per le persone che vogliono una vita tranquilla e senza problemi anche se apparentemente sembra tutto un fiorire di rose assolutamente non è così le emozioni sono sicuramente la nostra bussola interiore capaci di orientarci in ogni momento della nostra vita anche e soprattutto in circostanze estreme il contatto con il nostro patrimonio emozionale ci permette di assaporare accettare rifiutare scegliere con la consapevolezza di essere guidati solamente dal nostro corpo quest'ultimo infatti è la sede di ogni nostra sensazione attraverso i suoi sussulti i suoi respiri le sue tensioni abbiamo modo di scovarle se solo gli diamo ascolto l'emozione ben diversa dal sentimento ha una maggiore stabilità è durata muove e dà vita al corpo in tale contesto nasce l'innamoramento che può essere fine a se stesso o può anche evolvere in un vero e proprio sentimento di amore autentico l'innamoramento è un momento magico nella vita di due persone che non sentendosi più sole vivono la loro esperienza d'amore in simbiosi totale senza interferenza alcuna che dall'esterno possa spezzare la magia del momento l'innamoramento non è solo un'attrazione dei corpi ma anche di due anime che si giurano amore eterno ci si convince che quel momento magico seppure di breve durata debba far parte integrante della vita debba far parte integrante della vita tanto da non poterne più fare a meno il rischio che si corre quando ci si innamora è che possa finire all'improvviso e bisogna aver raggiunto un buon livello di amor proprio per non provare la paura di rimanere soli qualora la persona amata decida di allontanarsi l'innamoramento tra due persone che hanno già consolidato un rapporto non può far parte solo del periodo iniziale della conoscenza ma deve rimanere una fiammella sempre accesa durante il percorso di vita della coppia nel momento in cui dovesse spegnersi completamente vuol dire che il rapporto è giunto al capolinea che è arrivato il momento di separarsi non bisogna farne una tragedia chi ama sa che tutto inizia e tutto finisce e che c'è un momento per l'inizio e uno per la fine e questo non crea una ferita non puoi rimanere ferito quando capisci che quella stagione è finita non puoi disperarti ma devi comprendere e ringraziare l'altro che ti ha donato nuove visioni di vita che ti ha aperto nuove finestre che non avresti mai scoperto da solo sono episodi questi che nel nostro tempo storico raramente capitano sono più frequenti altresì separazioni tra persone che non riescono ad accordarsi civilmente sulla fine di una storia che dall'amore scivola in desiderio di vendetta sopraffazione conseguenza di un percorso vissuto con immaturità forse perché il sentimento era caratterizzato da dipendenza possessività gelosia chi lo sa è facile scivolare molto in basso quando non si ha la consapevolezza del vero significato dell'amore e se nel mezzo ci sono anche i bambini il danno che si arreca alla società è maggiore il sentimento dell'amore dunque è il frutto di emozioni vissute nella nostra vita e quando questo frutto matura vuol dire che siamo pronti per innamorarci lasciarsi andare non è una prerogativa di tutti ma ci si può provare cominciando a fare innanzitutto chiarezza con noi stessi e domandandoci cosa ci impedisce di amare perché continuiamo a sentirsi delle persone non degne di amore l'innamoramento che si affine a se stesso o che evolva in un amore autentico è la prima fase dell'amore non può essere saltata e deve sempre essere una caratteristica fondamentale nel rapporto di coppia anche se vissuto meno intensamente rispetto ad altri momenti della vita in due essere innamorati non vuol dire credere di essere innamorati mentre non si è innamorati affatto francesco alberoni dice che una persona può avere un forte interesse per l'altro pensare continuamente a lui passare con lui ore e giorni felici e poi dopo un certo tempo perdere questo interesse perché in fondo lo ha soddisfatto proprio come un bisogno primario non era vero innamoramento ma un'infatuazione erotica oppure può attaccarsi ad una persona e desiderarla intensamente perché gli altri l'ammirano e la desiderano in altri casi il motore è una delusione un amore invelenito dalla gelosia e dal disappunto ci fa cercare un sostituto qualcuno con cui sostituire il primo altre volte il desiderio di potere il successo l'essere ammirati invidiati accanto a una persona ricca o potente è la voglia di reagire a una depressione che l'altro riesce a risolvere apparentemente in altri casi il bisogno di sfuggire alla noia e alla banalità gli esempi potrebbero continuare ma quello che conta è capire che certa gente si disinnamora con tanta facilità perché in realtà non si era mai innamorata innamorarsi fa bene ma non basandosi assolutamente su tali esempi l'innamoramento è vissuto in maniera più o meno intensa in base al momento in cui si sta vivendo si può essere pazzamente innamorati del partner perché tutto il nostro essere è focalizzato sull'altra metà diversamente si può essere distratti da altro penso che il compagno ideale di vita non debba ingelosirsi se ci capita di sentirci follemente innamorati della vita può succedere perché no la vita è la nostra maestra e noi la dobbiamo seguire l'amore per la vita ci conduce all'amore incondizionato per noi stessi per il partner e per gli altri non è mai troppo tardi per arrivarsi io non credo che ci siano persone più fortunate di altre la vita è uguale e giusta per tutti nel bene e nel male ognuno ha la sua parte da recitare sul palcoscenico della vita a noi sta la scelta di voler essere spettatori o attori è per questo che ci sono persone che sanno accettare con amore il dolore perché sono stati riconoscenti alla vita quando hanno assaporato la felicità l'amore se non esiste la felicità per alcune persone è perché non c'è abbastanza amore nella loro vita il segreto della felicità è nell'amore che come spiegato in precedenza non è un percorso lineare ma se le emozioni rappresentano la nostra bussola interiore capace di orientarci sempre soprattutto in circostanze estreme dobbiamo imparare ad emozionarci più spesso sono le belle emozioni che ci danno tregua in alcuni momenti difficili della vita ti si può emozionare davanti a un film che ci fa morire dalle risate ci si può emozionare andando in un posto dove abbiamo lasciato un pezzetto del nostro cuore ci si può emozionare davanti alla bontà di una persona che ci fa del bene molte saranno le occasioni che ci faranno emozionare ma saranno quelle che ci daranno la carica per andare avanti e ci manterranno sulla strada giusta quando le prove della vita arriveranno non per schiacciarci ma per renderci più forti come un bravo pugile sul ring capitolo 6 l'amore vero è sempre unito dal cielo nessuno in terra potrà mai fermarlo così recitava la canzone di adriano celentano chi fa esperienza dell'amore vero è come se navigasse sul mare senza mai scorgere dove finisce ma avendo sempre lo sguardo all'orizzonte dove il cielo e il mare si congiungono sai da dove sei partito ma non sai dove la nave ti porterà approdare su un'isola deserta potrebbe essere accattivante ma al tempo stesso pericoloso perché si potrebbero nascondere delle insidie e chissà quanto tempo riusciresti a sopravvivere amare è sempre un rischio che solo un avventuriero è disposto di affrontare con leggerezza del cuore e la mente sempre vigile Rita Levi Montalcini diceva rare sono le persone che usano la mente poche coloro che usano il cuore uniche coloro che usano entrambi investendo sul proprio futuro benessere è bene ascoltare entrambi sia l'uno che l'altro hanno molte cose da dire ognuno ha caratteristiche proprie per comprendere ed agire rispetto al mondo circostante c'è chi crede che la ragione sia superiore ai sentimenti e che lasciarsi trasportare da essi vuol dire essere vulnerabili d'altro canto alcuni credono che le emozioni siano fondamentali per poter amare gli altri e che sia proprio questo sentimento a farsi sentire vivi tutti hanno in parte ragione l'essere umano è caratterizzato da un indissolubile tutto composto da ragione e sentimento che non possono essere divisi proprio come la fusione tra terra e cielo che si contempla l'orizzonte difatti separatamente sono pericolosi la mente utilizza la logica ma dimentica ciò che si prova mentre il cuore spinge ad agire senza controllo conducendoci spesso ad errare si dice che sono i nostri sentimenti a segnare il nostro cammino ma è la nostra testa a scegliere il modo in cui percorrerlo l'input ci viene fornito dalla mente e ci fa capire ciò di cui abbiamo bisogno su tali presupposti si è basata l'inizio della storia d'amore con l'unico vero amore della mia vita mio marito siamo entrambi l'uno molto diverso dall'altra io ho un'eterna sognatrice che vola in alto lui con i piedi ben saldi a terra eppure lui mi lascia libera di sognare nonostante la sua paura di rischiare sia concreta ed estremamente reale ed io rispetto la sua razionalità che riesce a ridimensionare le mie vedute a volte eccessivamente amplificate l'anello di congiunzione è rappresentato dall'essere riusciti entrambi a far funzionare mente e cuore quando i nostri corpi e le nostre anime si sono incontrati non c'è stato un posto suggestivo o un periodo spensierato a favorire l'innamoramento bensì solo il momento giusto che io aspettavo da sempre e lui desiderava fosse quello che realmente stava vivendo nel momento in cui mi notò tra gli altri è stato un colpo di fulmine da parte di mio marito a me sembrò che il ragazzo biondo e aitante fosse stato colpito dalla freccia di cupido sulla spiaggia brulicante assolata di una calda mattina di agosto non avrei mai immaginato che quel uomo che all'epoca era ancora un giovanotto avesse potuto dare una svolta alla mia vita portavo nel cuore un grande dolore dovuto alla morte di mio padre e lui arrivò proprio nel momento in cui mi stavo quasi rassegnando all'idea che nessuno avrebbe potuto amarmi incondizionatamente come mio padre di lì a poco quel giovanotto completo di tutti gli attributi che un gentiluomo potesse mostrare durante il periodo del fidanzamento avrebbe rappresentato tutto per me era amante fratello padre anche sorella madre perché suo animo sensibile sa capire molto bene il cuore di una donna il periodo del fidanzamento è stato stupendo meraviglioso e si è coronato poi con il matrimonio eclatante anch'esso grazie a tutte le carezze i baci e le tenerezze che ci siamo scambiati l'amore vuole amore e l'amore chiama altro amore per questo poi sono arrivati i nostri cari figli tanto desiderati e voluti non so su quali altre spiagge approderà il nostro amore e quali frutti genererà perché il cuore non è affatto stanco ma sempre desideroso di nuove bellissime avventure che né la paura né le incertezze potranno impedire di vivere nella pienezza della gioia totale e incondizionata l'amore non è sempre rose e fiori a volte ci si può smarrire nei meandri della mente e del cuore soprattutto quando la mente non vuole arrendersi a una vita mediocre e quando il cuore è troppo sensibile per rimanere indifferente dinanzi al dolore del mondo bisogna assecondare i bisogni della mente che vuole conoscere e soddisfare le curiosità che affondano le radici nella coscienza spirituale e aprono le porte del sapere perché la conoscenza ci rende persone libere e indipendenti prerogativa che le donne in particolare devono conquistare con grande fatica ancora oggi nel 2019 anche il grido di un cuore che si domanda il perché del dolore non può tacere ed essere soffocato dall'egoismo e l'indifferenza dilagante della mentalità contemporanea così impegnata ed estremamente focalizzata sul proprio ego non è concepibile una vita proiettata solo su se stessi e su coloro che ci garantiscono le nostre comodità rassicurando se stessi di non essere sfortunati come al contrario lo può essere qualcun altro in quel momento c'è molta commozione in giro ma sono pochi quelli che si muovono verso chi è nel bisogno mettendo a rischio le proprie sicurezze e comodità l'amore è anche questo desiderare la felicità dell'altro che ha bisogno di un compagno di viaggio per proseguire il suo difficile cammino tra indifferenza ed egoismo di tante persone che non seguono più la bussola delle loro emozioni la vita è una ruota e non esiste la fortuna o la sfortuna perché ciascuno è il fabbro del proprio destino e tutto il bene che facciamo ci torna sempre indietro con gli interessi non ci sono lezzi che spiegano l'amore ma ci sono delle verità indissolubili che non si possono assolutamente negare e che interpellano la nostra coscienza quando ci inducono a fermarsi per riflettere e a frenare la nostra folle corsa verso il nulla non è il nulla la nostra meta è il peggiore inganno che la mente e il cuore possano subire siamo stati generati da un atto di amore e siamo destinati a raggiungere l'amore supremo che rappresenta l'apice dell'amore umano ciò non significa che dobbiamo morire per avvicinarci a Dio perché lo possiamo raggiungere tutte le volte che sapremo allargare le nostre braccia e il nostro cuore a chi ci chiede un po' di amore amare vuol dire lottare per amore del prossimo ed affermare i propri diritti senza dover per forza calpestare gli altri amare vuol dire dare un senso alla vita anche quando quest'ultima ci mette a durissima prova amare vuol dire perdonare dal profondo del cuore quando capisci che tante volte chi ci fa del male lo fa per ignoranza e non per cattiveria gratuita amare vuol dire tante cose ed ognuno può dire nella piena consapevolezza e sincerità di cuore cosa significa per lui l'amore capitolo 7 un amore che nasce si fa strada nel cuore mettendo le sue radici fin nel profondo arriveranno tutte le tempeste possibili e immaginabili per distogliere il pensiero dall'oggetto dei nostri desideri ma le radici rimarranno sempre lì l'amore però sa essere anche molto crudele fino a sradicarle con forza arrecandoci un dolore immenso e profondo proprio come quelle radici che in un tempo più o meno breve si sono piantate nel nostro cuore è un'esperienza che abbiamo già fatto quando strappati dal grembo materno veniamo al mondo e cercando di trovare un modo per placare quel grido d'amore ci attacchiamo al seno materno il grido continuerà interrotto da pause in cui ci sentiremo rassicurati dall'amore dei nostri genitori e così andremo avanti fortificandoci giorno per giorno fino a non avere più paura di rimanere da soli nel buio della notte quel grido ritornerà successivamente sotto un'altra forma più lieve perché qualche paura nascosta ci farà sobbalzare ancora sentendoci soli e impauriti nel buio della notte e cercando riparo conforto nel lettone in mezzo ai nostri genitori ritroveremo in un attimo la serenità perduta non esiste nessun altro percorso per crescere se non quello previsto dal superamento naturale di tutte le fasi della crescita evolutiva lo stesso percorso doloroso ci viene riproposto dalla vita anche quando diventiamo adulti si tratta solo di ricordare e di mettere in pratica la teoria dell'amore che da bambini impariamo molto più velocemente per curare le nostre ferite e guarire completamente bisogna saper accettare tutte le difficoltà e sentirle nella loro vera e crudele percezione per poterle affrontare con tutto l'impeto e la grinta che la benigna natura ci ha donato raggirare l'ostacolo è solo un'illusione per distogliere il pensiero dalla nostra vera missione diventare uomini e donne capaci di saper amare non c'è fallimento non c'è delusione che si possa sperimentare quando riusciamo ad essere fedeli alla nostra vera natura che ci ha fatto perfetti e al tempo stesso fragili perché bisognosi gli uni degli altri e soprattutto bisognosi del bene supremo è così che si impara l'arte di amare che i bambini conoscono molto bene e da loro abbiamo bisogno di imparare far morire il fanciullino che vive dentro di noi vuol dire privarsi delle emozioni più belle che si possono provare al mondo e che ci conducono all'amore per il partner per gli altri per Dio l'amore universale ci ripagherà nei momenti difficili perché tutto l'universo si metterà in moto per noi e tutta l'energia cosmica di cui è fatta la materia compreso il nostro corpo vibrerà all'unisono per permetterci di realizzare i nostri sogni i nostri desideri la legge dell'attrazione è una regola che governa l'universo e che ha attirato l'attenzione di scienziati psicologi ed esperti comportamentali si tratta di una legge un principio che può davvero aiutarci a vivere una vita più serena la legge dell'attrazione può essere la chiave per ottenere quello che desideriamo nella nostra esistenza Albert Einstein diceva tutto è energia e questo è tutto quello che esiste sintonizzati alla frequenza della realtà che vuoi e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà secondo il celebre scienziato la legge dell'attrazione è un sistema in cui tutto è energia compresi noi stessi l'energia si manifesta secondo vibrazioni di determinate frequenze e attraverso i pensieri e il nostro atteggiamento mentale riusciamo a sintonizzarci sulla frequenza di ciò che desideriamo è importante disporre di energia positiva con l'incredibile potere delle emozioni e dell'entusiasmo verso uno scopo questa energia spingerà l'oggetto del nostro volere verso di noi di fatto dunque la legge dell'attrazione ci spiega che nulla è impossibile e che qualunque traguardo dipende esclusivamente dalla nostra volontà e dal nostro atteggiamento ci sono verità a cui non possiamo sottrarci e con cui prima o poi dovremo fare tutti i conti e c'è una legge che ha funzionato e funziona per tante persone a patto che siamo fedeli ad alcune leggi della vita che hanno in comune un unico principio non si può essere felici se non siamo capaci di donare amore incondizionato naturalmente nella misura in cui la nostra natura ci permette non siamo chiamati a compiere imprese straordinarie ma possiamo trasformare l'ordinario in straordinario con l'entusiasmo le emozioni e i piccoli gesti quotidiani di amore verso se stessi gli altri e quindi l'universo non esistono leggi in amore basta essere quello che sei recitava la canzone di Marco Ferradini non ci sono leggi regole principi che possono spiegare l'amore perché è una forza potente e misteriosa che va al di là della ragione oltre i confini del cuore che a volte ci ostiniamo a voler rinalzare come muri che impediscono l'accesso ad alcune categorie di persone che noi decidiamo non debbano varcare non finiremo mai di imparare a volte potremo rischiare anche di smarrirci ma se terremo fissa davanti a noi la legge dell'amore che tutto può allora la nostra vita sarà sempre diritta perché Dio ha il potere di raddrizzare le strade più tortuose di cui la nostra mente può fare esperienza talvolta trascinando dietro di sé anche il cuore non lasciamoci ingannare dalla mente e tradire dal cuore la calma l'ascolto e la prudenza dovranno accompagnare sempre i nostri passi sono qualità queste ultime di cui avremo bisogno per sentire meglio e concentrarci su noi stessi sicuramente esiste un punto in cui ci troveremo in accordo con ciò che ci confonde non potremo prevedere ciò che ci accadrà ma non potremo neanche permettere ad una decisione di fermarci in anticipo io raggiungo il mio equilibrio con la pratica dei sacramenti previsti dalla chiesa cattolica attraverso la fede un tesoro che Dio mi ha regalato dopo la morte di mio padre che a sua volta me l'ha consegnato come un testimonio per continuare l'opera di amore che lui ha realizzato sulla terra e che ha raggiunto il suo apice con la malattia accettata e vissuta con tanta forza e coraggio ognuno può trovare il suo modo di amare servendosi degli strumenti a sua disposizione per realizzare l'amore perché alla fine tutte le strade conducono a Dio buon viaggio a tutti e grazie per aver letto questo libro ringraziamenti dedico questo libro a mio marito e ai miei figli che sono lo scopo della mia vita Vincenza